Ma intanto era un obiettivo importante di mandato, quello di coordinare tutta la rete viaria in un unicum, rete viaria che guarda all'attività veicolare ma anche ai pedoni e anche alle bici. Questo in un contesto in cui Osimo è città della Lega del Filodoro e quindi un piano organico anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo trovato il partner ideale in LegaNet, una società legata all'associazione Lega Autonomie che con noi coordinerà dei tavoli di confronto perché sarà un percorso partecipativo per arrivare alla redazione di un piano urbano della mobilità sostenibile che prevedrà un aggiornamento del piano urbano del traffico, prevederà un piano in indirizzo per l'abbattimento delle barriere architettoniche ma soprattutto legherà tutto questo anche allo sviluppo del turismo e della promozione del territorio. Perché dico questo? Perché l'amministrazione comunale di concerto con i territori di Mitrufi e con la regione Marche ha ottenuto importanti finanziamenti per la ciclovia adriatica che va dalla sorgente del Musone fino al mare, quindi il turismo che guarda la montagna e che guarda il mare. Ha ottenuto un finanziamento per la ciclovia adriatica che invece è sul versante di Osimo Stazione e da sola con fondi proprio è riuscita a realizzare altri 600 metri lineari di pista ciclabile a Campo Cavallo. Sempre più sono i turisti che amano la natura e che vengono ad apprezzare i nostri territori per l'enogastronomia e il paesaggio naturalistico e poi dobbiamo dire che questo piano che farà interagire tutto l'associazionismo simano che chiamiamo sin da ora a costituirsi in gruppo potrà portarci a delle idee innovative, ad esempio il pedibus cioè vedere tutti i genitori che portino i propri figli in un unico luogo dove poi c'è un personale specializzato che accompagna a scuola, questo se penso ad Osimo Stazione a San Biagio potrebbe essere un progetto ambizioso. Invece per quanto riguarda le attività produttive penso a un ultimo miglio con un veicolo elettrico che rispetta l'ambiente, quindi a delle piazze nella prima periferia di Osimo dove arrivano tutti i camion che scaricano la merce per le attività produttive del centro storico e poi a salire questo veicolo elettrico li porta a destinazione il materiale per liberare il centro storico magari dal passeggio di turisti o dei cittadini stessi. Questo lo potrà fare sicuramente quel gruppo di società partecipate che da anni collabora al fianco del comune e ne sono il braccio armato, quindi questa è una grande soddisfazione, oggi c'erano interlocutori importanti a questo tavolo ad ascoltarci, c'era Confindustria, c'era la Lega del Filodoro, c'era il comandante della stazione Carabinieri di Osimo, c'era la Misericordia per le emergenze, quindi insomma da queste persone che oggi hanno partecipato partiranno poi i tavoli di confronto. È una gran bella giornata se poi pensiamo che questo progetto sia un po' più ambizioso e possa essere la base di partenza per allargare il piano urbano e la mobilità sostenibile all'interno Valmusone. Oggi i sindaci di Valmusone sono uniti a prescindere dall'appartenenza politica e hanno portato a casa importanti obiettivi come ad esempio nel mio caso i 3 milioni e 100 che la Regione Marche mi ha dato per far partire la grande viabilità della strada stradale 361 al nord, quella che da 40 anni era solo chiacchiere e oggi per un terzo viene finanziata la Regione. È come la rotatoria che invece di comune accordo con Castelfidardo, andremo a fare alla fine di Via delle Querce, strada comunale di Castelfidardo, sulla strada provinciale per risolvere il noto viario delle attività produttive proprio nate nella utilizzazione di Via delle Querce. Quindi veramente una gran bella giornata oggi. Sicuramente sarà utile avere al nostro fianco questi professionisti del settore perché dopo il problema annoso sulla strada Adriadia che stiamo cercando di risolvere sta uscendo fuori anche un problema importante su San Biagio quindi con professionisti al fianco, ARPAM, ASUR e tutti gli enti che ci possano dare dei consigli sicuramente riusciremo a elaborare una proposta progettuale che migliorerà la qualità della vita per i nostri concittadini. Sì, noi abbiamo portato un esempio concreto in questi ultimi 15 giorni il collega consigliere comunale Antonio Scarponi che ha una sua disabilità non potendo salire dal storico ascensore del comune perché c'è un cantiere aperto ha chiesto aiuto e questo aiuto che ci ha chiesto noi l'abbiamo cercato di risolvere attraverso la collaborazione della Croce Rossi italiana che ha comprato una sedia mobile che con due operatori gli ha permesso di salire le scale senza avere problemi e raggiungere il consiglio comunale. I due operatori sono rimasti con noi fino alla fine del consiglio e poi l'hanno riportato giù con questa sedia mobile. Non so se è un piccolo passo, se è un suggerimento per il tavolo di confronto e dovrà elaborare la proposta più importante del PEVA, però credo che siano buone pratiche che mettono da parte l'essere di maggioranza o di minoranza, ma viene avanti il concetto di essere uniti per il bene della città di Osimo. Questo è un problema che esiste in tutti i centri storici d'Italia che è stato posto all'attenzione dell'amministrazione comunale da parte di alcuni residenti, sicuramente non trova troppo spazio tra i commercianti, sicuramente inviteremo sia residenti che commercianti a questo tavolo di confronto e vedremo cosa ne esce fuori.